Le sedute del 26 e 27 marzo Il Consiglio regionale si è riunito in seduta straordinaria su richiesta delle opposizioni il 26 marzo per analizzare la situazione del trasporto pubblico locale e il 27 sui fondi regionali a sostegno dell'assistenza agli anziani. Il 26 marzo, inoltre, l'Assemblea ha approvato la proroga fino al 30 aprile dell'esercizio provvisorio del bilancio in attesa dell'approvazione del documento contabile di previsione. Inaugurata la scuola di Medolla A dieci mesi dal terremoto in Emilia è stata inaugurata il 23 marzo a Medolla nel Modenese la scuola per l'infanzia, costruita grazie all'impegno di privati e istituzioni. Anche il Piemonte ha contribuito a realizzare il progetto con un finanziamento di 150.000 euro grazie alle donazioni di amministratori regionali e locali di tanti cittadini e rappresentanti della società civile. WebTG con la lingua dei segni Rinnovato l'accordo tra Consiglio regionale e ente nazionale sordi del Piemonte per continuare la produzione del telegiornale CRP TG LIS dedicato alle persone sorde o con deficit uditivo. Il documento è stato firmato a Palazzo Lascaris dai presidenti Valerio Cattaneo e Corrado Gallo. Il video a cadenza settimanale caricato su YouTube e sul sito del Consiglio regionale viene anche divulgato attraverso i canali social e trasmesso gratuitamente su alcune emittenti televisive locali. Progetto La Città Sicura Per il mese di aprile gli appuntamenti di presentazione del progetto La Città Sicura, promosso dalla consulta regionale delle elette, sono in provincia di Torino lunedì 8 alle 18 nella biblioteca di Caselette e mercoledì 10 nella biblioteca di Venaria alle 17. Per la provincia di Vercelli a Cigliano il 12 aprile alle ore 21 nel centro incontri di Piazza Lorenzetti. Le sfide di cibo e clima Aumentare la produttività agricola per fronteggiare l'incremento di domanda globale ma allo stesso tempo ridurre l'impatto ambientale e il consumo di risorse. Questa è la sfida emersa durante il convegno di inaugurazione del 228esimo anno accademico dell'Accademia di Agricoltura di Torino che si è tenuto a Palazzo Lascaris il 23 marzo.